Come già sapete i miei nuovi goldfish hanno dei parassiti, quindi per provare a risolvere questo problema utilizzerò del sale non iodato. Dunque prendiamo la giusta quantità di sale e attendiamo che si sciolga in acqua. Una volta sciolto ci basterà versarlo direttamente in acquario. Ci tengo a precisare che non tutti i pesci tollerano il sale, quindi prima di utilizzarlo è importante informarsi.